Io all'inizio pensavo che fosse il sindaco Nicotra che aveva l'abitudine di promettere di annunciare finanziamenti ma quando ho capito, visto che questa scia continua, non era lui ma era bene l'assessore Petralia che ha la voglia di annunciare finanziamenti, ad oggi l'ex amministrazione Nicotra, oggi guidata dall'assessore Petralia ha annunciato oltre 100 milioni di euro di finanziamento ma ad oggi un euro in cassa del comune non è entrato io ricordo che i giardini della memoria e la regione hanno rigettato il progetto, il mercante del pellegrino non era completo zona ruolo che non riqualificava nulla andava solo a vantaggio di alcuni privati e questo andremo a vedere come finirà oggi un'altra promessa di finanziamento ma è un progetto di finanziamento che si doveva partecipare quindi stiamo parlando del nulla, di aria fritta, se qualcuno pensa che i voti si ottengono con le promesse ancora siamo negli anni 60-70, si sbaglia di grosso, la gente vuole fatti concreti e la cicatena ad oggi fatti concreti non ne ha dati, ha dato solo illusioni e quindi ora smettiamo di dare illusioni e cerchiamo di parlare cose serie, non è la campagna elettorale fatta così che porta frutti e benessere ai cittadini porta solamente disagi e veramente attriti tra le parti politiche